520 assunzioni nel VCO per il mese di agosto 1830 nel trimestre agosto settembre 2019 sono i numeri diffusi dalla camera di commercio nell'ambito del sistema informativo Excelsior purtroppo però solo nel 14 per cento dei casi le entrate previste saranno stabili ossia con un contratto a tempo indeterminato di apprendistato mentre nell'86 per cento dei casi saranno a termine a tempo determinato con altri contratti con durata predefinita le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 10 per cento del totale in linea con il dato registrato nel mese precedente nell'agosto 2018 la maggiore necessità di nuovo personale nel settore dei servizi e delle professioni commerciali dove saranno destinati il 43 per cento dei nuovi ingressi un quarto delle assunzioni circa riguarderanno operai specializzati e conduttori di impianti seguono profili generici dirigenti specialisti e tecnici e impiegati le professioni più difficili da reperire in questo periodo quelle legate al settore turistico cuochi camerieri e altro che sono anche le posizioni numericamente più significative seguite da commessi e operai per una quota pari al 32 per cento le nuove assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni sette volte su dieci è richiesto un titolo di studio sei volte su cento la laurea ad oltre sei candidati su dieci viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore l'andamento delle entrate mensili nel mondo del lavoro del vco dall'agosto scorso ha fatto segnare un leggero aumento a gennaio 2019 e un picco a marzo aprile 2019 calo tra lo scorso luglio e questo agosto